240 associazioni in Italia con oltre 30.000 volontari, 26 in Puglia con 1.200 volontari di cui 80 Bari che prestano la loro opera nell'ospedale San Paolo. Sono i numeri dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che in sala giunta del Comune di Bari ha presentato la prima giornata nazionale AVO. I volontari, sottolinea la Presidente Anna Maria Marolla, non si sostituiscono al personale medico e paramedico, sono soltanto vicini ai malati. Possiamo ascoltare, dare un semplice bicchiere d'acqua, continua la Presidente, giocare come avviene nei reparti pediatrici. Un servizio gratuito, qualificato per assicurare calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Una presenza che, come già detto, integra e non si sostituisce ai compiti e alle responsabilità dell'ospedale. La manifestazione prevede per domani la distribuzione di materiale pubblicitario e gadget all'ospedale San Paolo. Sabato, invece, distribuzione di gadget in Piazza Ferrarese e premiazione degli alunni per il concorso Vieni con noi alla scoperta della solidarietà. Domenica, infine, al Cineteatro Nuovo Palazzo Spettacolo di Paolo Migone.